www.niki-giusino.it vi mostra come si sbuccia una patata. Prendete la patata e mettetela nella mano sinistra, poi certo se siete mancini la mettete nella mano destra, così col coltello vi è più facile, altrimenti se siate destri prendete la patata nella mano sinistra, prendete il coltello, la appoggiate sulla buccia, un primo taglietto così, un altro così, insomma fate dei piccoli taglietti sulla buccia, non profondi, io ora vi mostro una cosa, guardate i taglietti e andate a sbucciare, guardate come i taglietti sono così, guardate con quale facilità la buccia si va a togliere, guardate, mi hanno messo senza buccia e ora andiamo a tagliare a quadratini, tagliamo la patata a metà, ok, facciamo doppi tagli e la andiamo a tagliare in questa maniera, così vengono a quadratini. nikigiusino.it, salve!